Se io già parlassi per una lista che è nata oggi... Allora, quali sono le prerogative che si mettono in campo per questo progetto? Beh, oggi nasce una nuova avventura, un nuovo progetto, una nuova lista cittadina. Una forma di municipalismo che si rifà a progetti di base già avanzati come quello di Barcellona, con Barcellona in Comun, con la sindaca da Colù. Dico sindaca proprio perché in Comune si rifà a dei modelli che sono vincenti, a dei modelli che vogliono essere vincenti. Ci ispiriamo a una volontà di essere aperti, inclusivi, orizzontali e di voler parlare a tutte quelle persone che, come me, fino adesso non avevano mai avuto possibilità di partecipare attivamente alla vita politica perché mancava un soggetto in cui riconoscersi che fosse diverso dalle forme che fino adesso erano presenti in città per fare comunicazione politica, per fare partecipazione, per fare inclusione con tutte quelle persone, quelle donne, quegli uomini che in questi anni, in questa città, hanno lavorato nelle associazioni, hanno lavorato con una forza aggregativa e civica per aiutare e far crescere questa città. Ecco, noi vogliamo parlare a quelle persone, quelle persone che si sentono di sinistra ma a cui mancava un modello in cui riconoscersi e noi parliamo a loro e vogliamo parlare a tutta la cittadinanza partendo dal basso.